A quale reality televisivo parteciperesti? Allora, ce ne sono due in particolare, Pechino Express e l'Isola. La canzone della tua vita? Ma avevamo detto che non è la tua vita, no, vabbè, scherzo. E no, mi piace la leva calcistica del 68. Ti va di canticchiarla? E come no? Quella che fa Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore. Vedi serie tv? Sì. Quale personaggio ti piacerebbe interpretare? Jack di Lost. La citazione del tuo film preferito? Di Al Pacino. Guarda, è bravo che sono, eh. E dice due cose hanno importanza nella vita, la parola e le palle, e io le ho sempre onorate.